A fare bella mostra di sé diverse patuglie dei carabinieri in grande uniforme che presidiano il centro della città dei fiori. Come già avvenuto negli anni scorsi, i militari in alta uniforme, come vuole la tradizione dell'arma per le grandi occasioni, presidiano il centro di Sanremo per tutta la settimana del festival. L'uniforme delle occasioni più importanti è composta da berretto rigido nero, giubba a doppio petto, capotto, cravatta sciarpa azzura con decorazioni, sciabola con pendagli e dragona per gli ufficiali, decorazioni e sciabola con pendagli e dragona per i marescialli e decorazioni per il rimanente personale. Tra queste figure ci sono anche le donne carabiniere in alta uniforme.